aria bella a tutti oggi ci sto io perché sarà nel suo ciclico burnout e quindi non gli va neanche di presentarsi perché a quanto pare si vergogna e vorrei vedere qua stiamo a parlare una caduta proprio di quelle brutte cioè se è liberamente buttata completamente sul consumismo e visto che va fatto prima il video da tbr di tutti i libri che c'è da legge poi è andata al salone e si è comprata una fracca dei libri gliel'hanno pure regalati dici basta no invece no guardate qua quanta roba che si è comprata io boh pare che ci stanno pure due regali e quindi io adesso sto qua per dirvi che cosa si è presa perché appunto lei si è vergogna ma prima di tutto ciao io sono adruzza non so se mi conosce se non mi conosci male male perché vuol dire che non sei iscritto vuol dire che non hai guardato i video quelli veri quelli dove c'è sto io perché ovviamente cioè non c'è qualità dove non c'è sto io eppure quell'altra professore a professoressa che io non so come mai ancora esiste su questo canale però pare che ci sta e ci devo convivere tra l'altro siamo disoccupati da una cifra questa ci fa lavorare pure nel video dell'operazione che ha fatto ultimamente ci abbiamo provato è c'è stato un tentativo di ammutinamento ma pare che proprio non è andato in porto quindi comunque male vedo vedete iscrive ok c'è vedo vedete iscrive se no io poi non posso comparì d'accordo cioè non è che mo uno va su youtube studio controlla l'applicazione e se vede che che ha metà da gente che ci guarda i video non è iscritta ma ve vergognate guardate che gradi se d'accordo a me vanna marchi mi spiccia al balcone di casa no casa perché non ce la faccio entrare però al balcone sì d'accordo mo penso proprio che sia il caso di iniziare perché vi dico che ci sta una wishlist qua sotto se no cioè ce mancano mo gli dovete pure comprare tre libri cioè ma che siamo impazziti oppure che ne so coffee eh mo perché è povera sara visto che si è comprata l'universo mo no mo gli dovete fare donazioni io non so come ragiona questa però i sordi in ce fanno schifo quindi in caso cioè se mi entrano pure a me non è che mi facciano schifo vedete un po qua sotto quello che trovate ovviamente tutta sta roba sempre perché ci fanno schifo i sordi ci avrà il link da affiliazione se voi compriate direttamente dalla a noi ci arriva una rubetta una stecca una roba poco misera e mi raccomando passate da quei link e poi c'è a noi così ci arriva qualcosa almeno non andiamo a farlo finito tutti i punti perché sia a casa qua è di proprietà però va pagato il mutuo eh che c'è mica è gratis ok vabbè cioè allora ogni tanto partirei da ci stanno pure due regali ma quelli di fama fine partire dall'unico che stai già letta e che finalmente io ve lo dico ci stanno i sconti da mondatori e hanno ristampato in forma economica sanguine ancora di paolo nori allora sarà è vero che stai data la pazza gioia però è una dirchia ma dirchia di quelle dirchia cioè voi non potete capire non so se vedere si conto ma lei non comprava libri da febbraio per questo poi gli è piarmato e poi però pure si vergogna e si nasconde comunque quasi parla di dei coso dei coso quello quello russo no quello che sta pure qua no com'è che si chiama come si intitola da sto jesky da sto jesky da sto mi pare perché ho sentito pure un po' l'audiolibro e appena è arrivato ci ha visto ha visto sulle storie di qualcuno ha comprato tutto ha già messo tutte evidenziazioni non è come vedrete più di tanto sul libro è solo molto felice da veloviato perché ha già letto quindi tra l'altro o vado già riporre nella parte dedicata tra l'altro vorrebbe proprio sapere da voi no ma secondo voi questo va accanto a da sto jesky nella parte dei russi anche se quello scaffale sta esplode oppure lo mettiamo qua nella saggistica con altri libri di saggistica perché pure questo sta esplode quindi c'è come famo secondo voi c'è va sulla saggistica oppure accanto all'autore perché ci sta pure in altro tipo d'ordè guiabba guagliabba quello che è che parla di marquez e muo vedrete nei prossimi alle luni di ma non sappiamo un domette lo mettiamo vicino a marquez ma non è marquez in intervista oppure un ottimo de qua fatemi sapere perché ci abbiamo bisogno d'aiuto poi prima di venire ai 9 euro e 90 da da vertrinelli che va fatto pure il video mo ricordo perché mamma mia stava la co tutti sti video li so tipo 50 e non sa finiva mai e dicevo senti c'è una certa canna e be leggeva pure le trame spicciava parola a casaccio non si capisce niente comunque prima di quelli vi dico che stai comprata i due che gli mancavano dei mattoni di legna perché pure la cioè si è proprio fissata con stile nezzo dia con fartro che di e no mo devo leggere tutti i mattoni inglesi e l'ho già riletto janeiro l'ho fatto 3 su 6 mo ci mancano altre te che sostituì via dalla pazza folla di doma sardi e mi del marcio che si chiama giorgia ma è una femmina comunque e poi ci sarà l'ultimo ammessi stallo perché però conosce bene lo sapete lo conosce bene ci ha fatto due due cosi qua nel video su su cosa su quella su virginia wolf e va sicuro che ne ha parlato fin troppo probabilmente lo riascolterà in audiolibro come anche sti due seppure rifatta audible regà soltanto per farsi per smartista roba che ho peseno eh cioè non è chi poi porta in giro è comunque a ultimo che si è comprata sempre da fertrinelli perché dici che fai nei privi non se è privata è 12 del zero calcare che prossimamente vedrete negli all lunedì perché probabilmente o leggerà in tipo tre secondi so pochissime pagine era in economica che fai mi capo a lasciarla visto che ci abbiamo un sacco del zero calcare quello è l'unico che tra l'altro tra l'altro mi sento di non dissentire è proprio l'unico poi direi ma sul fatto che lei è una che dice le cose e poi ne va altre perché sappiamo che è un ipocrita e visto che aveva tanto pianicolato che a casa degli spiriti io non ce la faccio più perché la ienda è pesante perché la ienda non gliene frega niente le fatte soffrì si è comprata pure violeta d'accordo perché c'è la coerenza prima di tutto giusto sare è sta coerenza comunque è mattoncino se siamo andate a controllare non c'è manco l'audiolibro quindi a voglia a te a legge stavolta me sa che gli fa poco male perché andiamo avanti poi gli piace un sacco la potete vedere pure qua di così tutto sto pezzo qua è suo a yoshimoto c'è chi dice che i libri sono tutti uguali lei dice un po' più o meno sì però mica poi tanto ce ne stanno alcuni molto belli e qui mi hanno detto che è molto bello ovviamente di nuovo c'è uno che more e poi tutti gli altri che soffrono questa è una cosa che gli piace un sacco a yoshimoto quindi ogni volta che leggete una roba sua preparatevi perché è una che ha amardramma e fa un sacco di storie poi un altro che lei dice nè 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 i trigger e cosa io non mi piace leggere questo e quell'altro questo si vede direttamente dalla copertina che è un mattoncione di quelle che farà piangere male ma male sicuro ma proprio malissimo perché ogni mattina genin di susanna abdullawa chissà come ho pronunciato susanna scusa se sei ancora viva sei ancora viva è viva è viva regà quindi spero che non veda mai questo video e niente pure questo pare pare tosto perché sta palestina c'è c'è tanta roba però io piace al medio oriente che io vuoi di i soldi su sua quindi da molti dopo di che deve anessa molto forte aveva già letto un altro libro che sta là sopra che donne che comprano fiori mi pare una roba allegra almeno questo è ambientato di solito in spagna di solito c'è sta roba di donne molto poco violenta qua a quanto pare ci hanno lasciato pure il bollino dell'anno scorso che quello di quest'anno è questo che brutto quello dell'anno scorso era più bello vabbè mica me ne ero accorta cioè io che me ne avevo accorgi a comprati sarà poi continuiamo con i trigger perché sicuramente non dirmi che hai paura di catozella che parla dell'africa e di natizia che vuole correre a mogadiscio mi pare e mi sa che promette malissimo io mi sto a perdere i capelli nel frattempo però non ci fanno caso fanno finta di niente promette pure questo malissimo cioè secondo me lei dice 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 che sta burnout dice che c'ha bisogno di roba leggera però poi guardate che si compra e andiamo semplicemente avanti anche perché tra l'altro regà io non è che so niente di sta roba ve leggo il titolo mi ricordo qualcosa che lei bladerava e basta vi ricordo pure di non fidare di lei no perché c'è va detto pure altra volta lei compra roba che poi spesso gli fa pure schifo quindi questo penso che coprirò un pezzetto ne ha parlato pure barbascura qualche giorno fa perché lui lo seguo mica come sarà sarà ogni tanto gli metto like ma cioè manco sempre questo parla di quello che potete pensare perché il mio bambino difficile ma inteso come una robetta che fa venire tante belle idee particolari e tanti viaggioni e chissà se almeno ce fa una letteratura scientifica così ce la fa lavorare pure a noi anche se sono 200 anni che ha letto pure quell'altri tipo quello dei funghi l'anno scorso e dovevamo lavorare c'è invece niente nata nisba poi poi c'avemo uno da cantarella quindi in teoria deve cantare la c'abbiamo già roba da studiare a panti a roma quello che è io non so perché si è comprata pure questo olimpos vizi amori avventure degli antichi dei il giorgio chierano pare che gli ha consigliato ari mo arianna è una brava persona però poteva non dirgli niente così smetteva di comprare altra roba però che fai stava la pare che è scritto bene almeno questo pare breve quindi poi visto che è in ubriacona e dovevamo comunque completare e gli piacciono le storie di famiglia questa è a salita dei giganti di francesco casolo è la saga dei minabria quelli da birra a birra è bella a birra è buona quindi daje daje ora me bloccheranno il video probabilmente perché sto incitando a beve ma non sto incitando a beve anzi vedete ve il video sull'alcol dei coso dei cartoni morti va quello sì che te fa riflette dopo di che c'è una storia divertente da raccontarvi praticamente ogni tanto su instagram ci scrive qualche casa editrice qualche persona che ha scritto il libro di solito se presentano nuovo malo modo non sanno chi siamo a me non mi hanno mai vista per esempio io non so cioè io non so che fa gente tutto il giorno comunque non mi avevano mai guardata non mi dicevano niente e se diceva ma non leggi il mio libro prima di tutto come ti permetti io non leggo niente ma chi sei da dove vieni che fai che vuoi mentre federica bertellotti mi ha scritto che ci aveva guardate che si divertiva che sarebbe stata contenta che ci leggevamo il libro suo allora sarà che è una che proprio non potete capire il caccolo gli ha fatto 200 domande mandami l'incipit mandami una storia mandami il fa e questo e quell'altro si è letta tutte cose ogni volta gliene chiedeva un'altra e sta paradonna a una certa però ha ricevuto l'ok perché dicevo se legge bene pare che non sia un mattone altro giorno gli hanno presentato un libro di mille pagine tutto di flusso di coscienza io non so come ragiona la gente comunque questo qua l'ultimo sonno pare che è ambientato nel 1858 in inghilterra e di solito non serve dire altro a sara in più il fonte è bono è scritto largo e la carta non è trasparente questa è l'unica cosa che vi posso dire perché io non ho letto io non leggo e via quindi feri quando quando gli va o sole e ti fa sapere gli ha detto pure o mi raccomando sappi che io negli alle lunedì principalmente mi devo lamenta perché non mi piace mai niente mi faccio surta quindi cioè è tutto preparato e vedi capare che ha detto ok e allora che ha fatto già impacchettato sto libro ci ha ammannato col piego dei libri ci ha fatto pure una bella dedica c'è una cosa proprio carina come ci piace a noi che succede sto pacco da toscana doveva venire a roma perché noi vivevamo a roma non so se si sente cioè io so che parlo proprio italiano e quindi si sente però siamo di roma ecco sto pacco è andato da firenze a roma a bari all'esce a brindisi e se sa come mai era arrivato in puglia cioè ci perché è lì quindi che è successo a povera federica che ha tracciato il pacco si è resa conto che stava puglia ha dovuto fare mandato toscana e poi quando è ritornato toscana si sono resi conto che dovevano a roma e se me l'hanno rimannato e il libro è perfetto ha fatto più viaggi di me quest'anno però tanta roba c'è anche soltanto per viaggio che ha fatto se merita di essere letto sarà una fortuna c'è una vita a parte voi perché c'è se no sarebbe non si sa come sarebbe cioè se già sta un burnout adesso pensa senza di voi c'è una fortuna il mondo e si chiama daniele quel sant'uomo non solo se deve vedere casa sommersa dei libri ma gli compra pure ebbene sì perché altro giorno mi fa ma non ha comprato quello no però vuole e sì che vuole che ti pare che non vuole e quindi gli apprezzo il satiro scientifico a sorpresa il primo numero da da cosa da rivista di barbascura con tantissime altre persone tipo da vieni daniele fabbri lorenza polistena marco ferrari velia lalli claudia pezza vecchia pensa vecchia o scusa la vucci eccetera eccetera c'è un sacco di leggente ma non sto qua a leggere tutto stacqua dietro ovviamente trovate tutto giù e beh direi che c'ha da leggere un bel po si deve pure un po impegnare perché già come gli è venuto in mente però o rega i video che ho citato stanno su stanno giù tra un po stanno pure fuori e a sarà tutti insieme gli dovremmo da di buona lettura ciao ciao Grazie a tutti.